Terra, no, scusa, te lo chiedo dopo, perché il terzo game è iniziato, potrebbe essere il terzo ed ultimo game di questa semifinale Ed allora siamo su Yen Su, probabilmente la mappa preferita dal suo avversario, ma lui è in vantaggio 2-0, vuole riuscire a prendersi la finale, SKMC E dall'altra parte, un giocatore che lo abbiamo visto in questa mappa, fare infiniti cannon rush dalla Corea per Ayur Genius Guarda, già il pilone posizionato da parte di A.C., direi che la dice lunga, vero? Sì, sì, volevo scoutarlo subito, di sicuro ha visto il cannon rush che ha fatto e se lo aspetta Infatti sta già scoutando, sta scoutando molto presto a 9, non si scauta mai a 9 in PvP Guarda, guarda anche la Forge, attenzione, non è che lo fa MC adesso No, sì Potrebbe esserci una sorpresa per Genius, l'avevi chiamata a te la partenza aggressiva di MC Sì, infatti, come avevo detto adesso non sia Attento, però guarda, guarda Genius, vede la Prove Guarda Genius, ha visto il pilone E ora, perché abbiamo visto ieri, che anche contro DuckDuck, DuckDuck aveva scontato tutto ma non c'è stato niente da fare per difendersi Dipende anche dal posizionamento degli edifici di Genius Se tipo li ha molto vicini al pilone è messo peggio, perché vengono spaccati subito Però lui li ha sul lato, quindi dovrebbe avere il tempo di fare un po' di stalker Vediamo quello che succederà Intanto anche Genius si va a difendere, andando a posizionare un pilone aggressivo Quindi questa partita potrebbe regalarci grandi, grandi sorprese Subito, immediatamente Siamo a 4, arriva il pilone sopra la rampa da parte di MC Ma dall'altra parte Genius vuole contrattaccare a questo punto, direi Genius Potrebbe essere uno Stargate È successo che, anche io a volte provato a Kandorashari Mi hanno fatto uno Stargate proxato, una Voidray E può essere molto efficace perché Kandorash non ha nulla per difendersi contro una Voidray Vediamo quello che succederà Stanno arrivando 3, bene, 3 cannoni 3 cannoni da parte di MC Vediamo quale sarà la scelta di Genius Invece dall'altra parte cosa deciderà di fare Intanto i 3 cannoni, 3 cannoni comunque in quella posizione sono pericolosi Alfred, lettura perfetta E infatti sta arrivando lo Stargate da parte di Genius Chi è in vantaggio in questa situazione? Adesso se Genius riesce a fare una Voidray dovrebbe vincere subito Perché anche se c'è un cannone lo può spaccare E può rifarsi il Nexus da un'altra parte, quello non è un problema Attenzione Quindi bisogna vedere il timing della Void Bisogna vedere se riesce ad avere abbastanza risorse per fare una Voidray Psi bloccato, si è andato a liberare lo Psi adesso Genius Situazione molto molto sul filo del rasoio Continua ad aumentare i cannoni da parte di MC Che sono ben 4 in questo momento Vanno ad attaccare tutti ma dall'altra parte sta arrivando la Void Attento però perché ha posizionato il centro cibernetico MC Oh se non arriva 400 minerali Non ha 400 minerali Non li ha 400 minerali Però può ancora farcela Perché con la Voidray potrebbe spaccare tutto La Voidray potrebbe spaccare tutto Ma la Voidray ancora non è arrivata Di certo i cannoni di MC sono molto molto pericolosi Però la Void poi non può spaccare 4 cannoni Sì anche in questo caso finirà Bindro Quindi può succedere di tutto Sì ma in questo caso MC può vincere o pareggiare Mentre Genius può perdere o pareggiare Attenzione subito viene ricercato Viene cronobustato uno stalker Viene attaccato immediatamente il pilone Viene attaccato immediatamente scusate il cannone fotonico Adesso il pilone subito per evitare la nascita di quello stalker Potrebbe succedere di tutto Il pilone potrebbe andare giù prima della nascita Prima della nascita dello stalker Lo stalker non è arrivato Stanno arrivando tutte le probe Che succede? Aiutaci Diccelo te che sta succedendo Se riesce a continuare a Tra l'altro una Voidray può ammazzare uno stalker Quindi in questo momento potrebbe farcela Genius a pareggiare in ogni caso Perché non può spaccare quei cannoni forse A meno che non riesce a trovare un punto in cui può depotenziarli con la Voidray Tanta attenzione È tornato in vita un pilone È tornato in vita il pilone È tornato in vita il pilone di DMC Che sta provando Ha fatto nascere il suo stalker Ha fatto nascere il suo stalker Muore subito lo stalker Morto subito Nella nascita in produzione Ok l'ha ucciso Nella nascita in produzione adesso Però ha sempre quelli che sono dei Genius Posserà andare lo stalker Anche il Mothership corre Attenzione il Mothership corre che sta aspettando probabilmente il Photon Overcharge Ci sono tutte le proprie di DMC Una partita assurda Quella che stiamo vivendo per queste WCS Europa Attenzione lo stalker sta attaccando Il Photon Overcharge Muore il Photon Overcharge Arriva in questo momento Arriva il Photon Overcharge Viene attaccata subito la Voidray Mentre tutte le probe Tutte le probe DMC vanno ad attaccare le probe Una partita assurda comunque questa Sì sì Adesso però ha ancora un minuto di tempo MC però Ora che finisce il pilone Finirà lo stalker Ma la Voidray c'è ancora Tutti gli scudi Avrà tutti gli scudi Rigenerati E la charge Pippo ci accompagna con le musiche del circo Per questi pvp A chi dice che sono noiosi Guardate che bellezza Però attenzione perché MC ha riposizionato due piloni adesso Quindi può continuare a produrre stalker Però c'è un Se riesce a continuare a ammazzare gli stalker Può farcela Adesso è finito il Photon Overcharge Deve spaccare subito lo stalker Finito il Photon Overcharge Abbiamo lo stalker Lo stalker va a attaccare Quella Void Attenzione perché abbiamo anche un cannone adesso C'è anche un cannone per MC Il cannone contro la Void E' qui che si decide la sfida Attenzione Ha vinto No Non ci vedo Poteva ammazzarlo Poteva farcela Poteva farcela Genius Poteva spaccare quel cannone Adesso ha perso perché Mi sa che ha perso Perché c'è uno stalker Attenzione Potrebbe morire la Void Della speranza per Genius Due di vita per la Void Deve ricaricargli scudi Però ora può continuare a creare Stalker Per MC Eh a poche son Ma ne ha abbastanza Per fare qualche stalker Ne ha già un altro in produzione MC a questo punto Direi che ha vinto Eh mi sa di sì Anche perché Poteva spaccare il cannone Genius Non so perché altrimenti la Void Direi che spaccava quel cannone Poteva farcela Attenzione 18 Psi per MC 8 per Genius C'è solamente una Void Sarà una finale E sarà una finale Incredibile Perché sarà MC Contro MMA Direi che è la finale Tra i giocatori Che più se la sono meritata Me lo confermi? Eh Sì direi che sì